Io ho sempre voluto fare un mio spettacolo e soprattutto volevo farlo per far capire alla gente che dietro il personaggio che vedono sui social c'è una persona, io lo dico proprio nello spettacolo i social ci hanno mangiato la testa, non sappiamo più distinguere la persona dal personaggio We got you! Ciao ragazzi, benvenuti in un'altra puntata di We got you, oggi siamo qui con Leonardo Bocci Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito, grazie mille, purtroppo ve l'ho rimasto solo io Non vedevamo un'ora È una settimana fantastica per te questa, mi sape? Una settimana fantastica, non so quando vedrete questo video ma è la settimana post derby Quindi è una settimana molto bella Si gode, stiamo tranquilli, rilassati, dopo due anni che non vincevamo Rilassati per pochi giorni perché mo' giovedì gioca per Milano Esatto, che ansia Un po' piccole gioie, dai piccole gioie Ma se le prendiamo Che si era andata così? Ah, esce in sovrimpressione Roma-Milan dici? Infatti poterse, la vedete dopo Milan-Roma Milan-Roma Vediamo un po' Vediamo, vedremo, magari continuerà la gioia, speriamo Che dici, come stai, che stai facendo? Bene, bene, allora diciamo che in questo periodo sono diventato molto teatrante Nel senso che ho fatto ultimamente molti spettacoli da teatro Ho finito da poco uno spettacolo che si chiama Ti va di sposarmi Con Danila Stalter e Roberta Garzia e Antonia Di Francesco Ogni volta qua vi ricordassi i nomi, se no poi ci sono ancora male Prima ho fatto Arancione con Fabrizio Dele Coliche Fabrizio Colica, Paola Michelini Mauro Coli, Patrizia Loretti Poi c'è Stefano che li manda tutti in sopra Che poi mi dimentico Che lampeggi E diciamo quindi tanto teatro Tanto teatro, non so perché mi sono ritrovato con tutti questi spettacoli da fare Ma volevo farli lo scorso anno Sai, dici, no lo faccio, lo faccio Poi quando li fai, dici, ma non ho più tempo per fare niente Ma quant'è che fa teatro? Ma diciamo a livello professionale Insomma, diciamo Io ho sempre voluto fare recitazione Insomma, l'attore, no? Sendo da quando ero piccolo E poi purtroppo c'è avuto questa cosa di fare queste cazzate sui social Quindi la parte professionale un po' dell'attore l'ho messa da parte Ma è sempre stato, insomma, comunque un sogno Un obiettivo da raggiungere L'obiettivo l'ho raggiunto facendo il mio spettacolo ad ottobre barra dicembre Con A.O. Titolo molto, vedi, molto sofisticato Io sono curiosissimo di quello perché non sono riuscito a vederlo Ma ho visto tutti che lo ripubblicavano le storie E vabbè, no No, ho fatto il mio primo spettacolo da solo Diciamo da One Man Show Molto contento E poi appunto sono arrivato a quest'altra opportunità di teatro Che da una parte, come ho detto, è molto bello Dall'altra, quando dicono il mestiere dell'attore È difficile Insomma, tante soddisfazioni Ma anche tanta fatica Perché ovviamente abituato A prendere la camera Giriamo un video da un minuto A ritrovarti su un palcoscenico Davanti 400 persone Insomma, è abbastanza difficile Io lo dico adesso Sono molto teso a fare questa intervista Perché sicuramente dovrò dire qualcosa di interessante Ma non so se uscirà fuori E però, insomma, ti hanno aiutato queste cose sui social Questi video e tutto Ti hanno dato una mano ad arrivare anche Allora, io dico sempre questo Dico sempre questo Io ho sempre voluto fare l'attore Quindi vivevo un po' nella frustrazione Di fare l'attore Delle 3000 porte in faccia Poi con l'avvento del web Insomma Provando a farlo Prima con Lorenzo E ancora adesso Da solo Insomma E c'è ancora tantissima strada da fare E dal momento in cui pubblichi un video Che va virale Prima non ti esenculava nessuno Adesso diventi Super Mi ricordo i primi tempi Adesso Ho un po' calato ovviamente Mi sto invecchiando Però I primi tempi Le stesse persone Che magari ti dicevano Ma sì Vediamo Proprio Fa questo Fa quest'altro Insomma quindi Si aprono delle porte Il web ti dà Ti dà una grande Una grande Visibilità Insomma Ma poi devi essere sempre bravo A sfruttarla Ed essere in grado di farlo Voi state facendo questa cosa E siete molto bravi Perché Comunque appunto Se devi fare qualcosa sul web Non sempre il web Ti faccio quella cosa sul web E va bene Devi essere bravo Io sono logoroico Quindi No no Ci piace tantissimo Durerà un'ora e quaranta E No Devi essere bravo Quindi All'inizio con Lorenzo pure Abbiamo sempre cercato di Di dare una Una professionalità A quello che facevamo Quindi non fare video Giusto per farlo Giusto per fare like Ma far vedere In un certo senso Quello che poi Volevamo fare da grande Quindi appunto Saper recitare Girare bene Non girare col telefono Ma girare con una camera Ai tempi Giravamo pure con una troupe Verà e propria Quindi Insomma Ci eravamo Arrivati al punto Di girare con dieci persone Abbiamo girato anche Con persone che Attualmente Tranne me Sono persone Che comunque adesso Sono fatte anche un nome Nella cinematografia Nella teatralità Insomma Nell'arte In generale Abbiamo Il nostro regista Degli actual Che a bei tempi Insomma Era Ludovico Di Martino Che adesso è un giovane regista Che ha fatto vari film Insomma su Netflix Dal cinema E tutto quanto Abbiamo girato con Paolo Mannarino Che è un altro regista Molto bravo Attori Ti dico Giacomo Spagoni Pure che è regista Delle Coliche Ma attualmente Sta facendo anche D'altri progetti Insomma Attori Che ti posso dire Sandro Bersani Che adesso ha fatto Agab Andrea Venditti Pure che è un grandissimo attore Ma sicuramente Mi dimenticherò Angelica Massera Vabbè Non ha iniziato con noi Però insomma Ci abbiamo collaborato Insomma Gabriel Montesi Che è uno degli attori giovani Più forti del momento Che ha fatto Il cassano Della serie su Totti Insomma E tutti sono passati Da Fai cazzate con noi E loro sono arrivati Fanno cinema Io sono ancora Con il cellulare E con il bicchiere Però devi dire Invece io faccio teatro Io faccio teatro Io ragazzi Quella vera recitazione Quell'anno 50 euro replica Mica cazzo Il teatro è così Uno dice Fai i social C'hai i follower Sei ricco Ragazzi No Cioè nel senso Sono capitati I tempi più belli Sicuramente Soprattutto all'inizio Con il grande video Intellettuale Roma Nord Contro Roma Sud Là insomma Anche a livello Economico Diciamo Tanto è questo Quello che volete sapere Quanto guadagno Quanti soldi guadagno È quello All'epoca sì Insomma Era anche un Periodo diverso C'erano i video lunghi Adesso è tutto Real TikTok Insomma È un po' diverso Però sì Insomma Adesso facciamo teatro E vediamo Vediamo dove ci porta Il cuore Ma il progetto degli actual Come nasce? Cioè come vi incontrate Con Lorenzo? Allora Con Lorenzo Ci siamo incontrati Da una scuola di recitazione Diretta da Ennio Coltorti Famosissimo attore E doppiatore Che si chiama Teatro del sogno Ci siamo incontrati In questa scuola Io all'epoca Facevo un po' recitazione Un po' il giornalista sportivo Per Roma News Punto EU Un sito sulla Roma E Siccome questo sito C'era tante visualizzazioni Insomma Tanti Click Ho detto Proviamo a fare una cosa Ci siamo detti Proviamo a fare Un episodio Zero Su una Su una Eventuale Serie Romanista Serie sulla Roma E abbiamo fatto Questo primo video Che era Fantacalcio romanista Quindi eravamo diventati Molto amici con Lorenzo E abbiamo detto Facciamo questo primo video E il video Caricandolo sia su Roma News Ma subito dopo L'hanno riprese Anche altre testate Ha fatto Ha fatto il boom Come si dice E da lì abbiamo detto Proviamo a fare Una vera e propria Serie romanista Cosa è successo? Questo nel reel Sarà la vera storia Di serie romanista No E da lì poi Volevamo fare questa serie Solo che Sendo molto giovani All'epoca C'avevamo Mortacce L'età vostra C'avevamo 27 anni 28 anni Ci siamo affidati A persone più grandi Di noi Che ci promettevano Sai com'era Ti porta a Mediaset Ti porta a Sky Non agenzie Magari autori Registi Giornalisti Persone insomma Che stavano un po' Nell'edere romano A cui noi Insomma abbiamo dato Tanto credito E ci hanno aiutato tanto Solo che sono Discorsi molto Percorsi molto lunghi No? Quindi ti fanno Tra virgolette A volte perdere tanto tempo Quando il web Appena fai una cosa Devi essere costante Cioè se voi fate una puntata Ogni due mesi Non vi segue nessuno Se la fate già Con più costanza Insomma L'audience Cresce E Quindi che abbiamo fatto Abbiamo perso Perso Tra virgolette Insomma abbiamo fatto Esperienza Di due anni In cui siamo Stati appresso A persone Più Più importanti Di noi E poi abbiamo detto Senti sai che c'è Proviamo a farlo da solo Da soli Ci siamo messi Sul web Abbiamo fatto L'amore Egeco E da là Insomma poi Tutti gli altri episodi Di serie romanista E poi Actual è nato Perché? Perché All'epoca Mentre facciamo serie romanista C'era la Lo scandalo Di mafia capitale Abbiamo deciso Di fare una parodia Romanzo capitale Che era la parodia Di romanzo criminale Sui fatti Di mafia capitale E da là È andata molto bene Però pure noi Non eravamo costanti All'epoca Perché facciamo Un video ogni due mesi E da là Quindi Non ci avevamo Tanto seguito Cioè i video andavano Abbastanza bene Però non ci avevamo La costanza Il pubblico Non si fidelizzava E proprio Poi tramite Un'agenzia Che ci ha detto Dovete creare Una sorta di team Dovete trovare un regista Abbiamo conosciuto Ludovico E da là Abbiamo iniziato A fare i video In maniera più continua Fino ad arrivare All'idea giusta Al momento giusto Che è stata Roma Nord Roma Sugger Però è stato un caso Insomma io Quello che dico sempre Non c'è un segreto Nel web Sicuramente L'attualità Ti fa viralizzare Di più Di un argomento A caso Però è pur vero Che devi fare appunto L'idea giusta Al momento giusto Certo ci vuole pure Quella piccola dose Di fortuna Esattamente Sì ma io attualmente Nonostante Nonostante tu dici Sai Fai dai A sette anni Questo lavoro Tutti i giorni Dico quale può essere Il video virale Non c'ho Non c'ho ancora La semplicità Nel pubblicare qualcosa Come magari hanno Alcuni Che ne so Tipo Frank Gramulia Mi viene in mente Che poi Dopo di me O le coliche Che qualsiasi cosa pubblicano Ormai il pubblico Ce l'hanno Io attualmente Ancora sto cercando Di costruire un po' Tutto quanto E tu Quando scegli Di separarti Dagli Actual E iniziare Il percorso Da solo Mi sono separato Dagli Actual Sembra I The Beatles La band Ci siamo sciolti Ci siamo sciolti Prima della pandemia Perché ognuno Insomma Vorrà seguire La propria direzione Lorenzo voleva Fare il regista Come sta Sta facendo E io invece Volevo continuare A fare le cazzate Sul web E quindi Sai no Quando Come tutti gli amori A volte Finiscono Insomma così Abbiamo detto Vabbè Separiamoci Separiamoci Ovviamente Con tutte le difficoltà Nel doverlo fare Comunque Condividi con una persona Tante Tante gioie Soprattutto A livello artistico Quindi è sempre Un po' difficile Però Penso che sia stata La scelta Giusta Per tutte e due E Poi chissà Non si sa mai Magari Sarà Non si può mai Sapere Però Niente Io ho continuato A fare le cose Sul web E Quindi per questo Perché A un certo punto Magari vedi Cresci E vedi Le Le Obiettivi di vita In maniera diversa Insomma Ma nulla Di grave Ogni volta Mi dicono Perché È successo questo Se sono menato No Sì Per carità Per carità E adesso Tu Fai tutto da solo O c'è un team Allora io Attualmente Diciamo che Dopo che mi sono separato Ho continuato a fare video Come facevo All'epoca Prima della pandemia Ancora andavano i video lunghi E quindi ho continuato Facendoli Insomma Come li facevo prima Solo che ero da solo Quindi scrivevo da solo Con tante difficoltà E Poi c'è stato Durante la pandemia Stavo da solo veramente Quindi ho fatto le cose col telefono Poi dopo la pandemia C'è avuto un grande periodo In cui ho detto Mo che faccio Soprattutto perché Non sapevo Con l'avvento di TikTok De Instagram De Reel E tutto quanto Non sapevo più che fare Perché mi rendevo conto Che c'avevo bisogno Poi girando con la camera No col telefono Perché mi piace la qualità Della camera Purtroppo Sono stronzo così Girando con la camera Dicevo Come se mi servisse Una persona H24 Che sta con me Appena c'è un'idea E diciamo che Attualmente Sì Ho una piccola squadra Con cui faccio anche altro Tanto Domani escerà questo video qua Ma Non sarà domani per voi Sarà Sarà già uscito E ho messo in piedi Una sorta di Agenzia di comunicazione Dove faccio Questo Le cose mie E anche altre cose Per altri clienti Insomma Bellissimo Quindi se vi serve Eh Bravo No però Si chiamerà È un'esclusiva Non sa nessuno Si chiama Be Like Ci occupiamo di gestione social Insomma Videoproduzione Tutto Ma va in conflitto Con la cosa vostra A Roma C'è talmente Tanto lavoro Perché anzi Io collaboro Anche con varie altre realtà Possiamo collaborare Anche insieme No a parte tutto Ho Ho cercato Di Perché sai che c'è Allora I video O li fai con costanza O sennò A livello lavorativo Se non ti chiamano Gli sponsor Stai là Appeso A visualizzazioni Che per carità Puoi monetizzare Con YouTube Con Facebook Però Dici che faccio Nella vita E E quindi Ho cercato Di ampliare Un po' Le vedute Anche se Tra virgolette È molto stressante Perché a volte C'è tante cose A cui pensare No? Diventi proprio Imprenditore Esatto Fare l'imprenditore Ragazzi Ve lo dico io Leonardo Bocci Ha 34 anni Non lo fate mai Non lo fate Perché no A meno che non c'avete i sordi Se lo volete fare da zero È tosta È tosta Insomma Poi magari C'è tanto stress Poi io magari Somatizzo tanto Però c'è tanto stress Prima cantavo ai matrimoni Ah ma dai Quando facevo gli act Cantavo ai matrimoni Quindi guadagnavo con quello Adesso i matrimoni Ne posso più fare Perché se non vado a cantare Un matrimonio Se fanno una foto con me Con gli ospiti Con gli sposi Con gli sposi E quindi ho dovuto fare qualcosa Che possiamo fare La cosa più vicina Quello che faccio adesso È l'agenzia di comunicazione Poi magari farò Tante altre cose Avevo aperto Un marchio di kebab Non so Ma dai Avevo aperto un marchio di kebab Ma che figo Era una cosa Che però attualmente Visto che non sono così popolare Nonostante voi dite Perché li devo aspettare Non sono così popolare Quindi a volte Queste cose sono un'arma a doppio taglio E probabilmente Forse pure l'agenzia Sarà un'arma a doppio taglio Non lo so Non lo so Lo vedremo vivendo Però Purtroppo qualcosa Devo guadagnare Quindi Richiestissimo Magari Sarebbe bello Sarebbe bello Tornare Io quello che vorrei fare Ma a parte gli scherzi Quello che vorrei fare nella vita No perché non mi va di fare niente Ma perché uno dice C'è un sogno Vorrei tornare a fare i video E guadagnare di quello Certo E quello sarebbe una E poi ovviamente Tutto quello che poi magari c'è C'è in più no Quindi il teatro Il cinema E tutto quanto Sarebbe bello Però vedremo Basta Ho parlato troppo Io non chiuderei questa parentesi Perché come ti è venuto in mente il kebab Il kebab non era un'idea mia Mi contatta questa agenzia E mi dice Perché non fare un Siccome ho passato un periodo della mia vita In cui andavo sempre a mangiare fuori Ma lo facevo ragazzi Per questa agenzia Perché curiamo anche Delle pagine dei ristoranti E la gente mi dava sempre Stava a mangiare A carbonara A carbonara Proviamo a fare i kebab romani E ho fatto questa Tramite questa agenzia Mi ha detto Perché non facciamo questi kebab romani Per carità Va benissimo Solo che come vi ho detto A volte era un'arma a doppio taglio Perché se poi magari il kebab non piace La gente ti fa cattive recensioni E ci vai a rimettere anche te Come tra virgolette personaggio E quindi ho detto Attualmente non è una cosa Che voglio fare Però magari in futuro Chi lo sa Sì Magari sì Invece scusa Io ero curiosissimo del teatro Dello spettacolo a voce Lo racconti un po' Allora A.O. è uno spettacolo Allora Io ho sempre voluto fare Un mio spettacolo E soprattutto Volevo farlo Per far capire alla gente Che Dietro il personaggio Che vedono sui social C'è una persona E lo dico proprio Nello spettacolo I social Ci hanno mangiato la testa Non sappiamo più distinguere La persona dal personaggio E E quindi Lo spettacolo parla proprio di questo È proprio uno spettacolo Diciamo Autobiografico Che io ho questa Biografia Io ho questa vita Che Ma no Lo faccio proprio Per far capire A chi mi segue Che c'è dell'altro Che non è solo Quello L'ho chiamato proprio A.O. Proprio per far venire la gente E fare io un'altra cosa Non sono solo Roma Nord Roma Sud Usa quello De Roma Nord Roma Sud Ma c'è anche altro Ci sono le ansie Ci sono la paura Dei trentenni Verso il futuro C'è la mia famiglia C'è anche questa cosa Appunto La contrapposizione Tra social e vita reale Insomma Quindi parla un po' Di tutto questo Diciamo che Parla molto dei trentenni Della vita di oggi Dei social Non c'è Roma Nord Roma Sud In chiave comica In chiave sì Comica Comica E anche dei momenti Di riflessione Dico solo che Finisco lo spettacolo Con un monologo Molto Drammatico Che insomma Parla dell'Italia E quindi c'è Far ridere Ma anche riflettere Come si dice Far ridere Ma anche riflettere Come deve essere Quindi andate subito Quando risaranno Adesso ne farò un altro Dove l'hai portato? L'ho portato Al teatro degli Audaci E al teatro Carbadella Quest'anno Però ne farò un altro Che si chiamerà Derealizzato Poi vedremo Magari li faremo pure a O Però ogni anno Tocca a fare cose nuove Certo Si chiamerà Derealizzato E parlerà solo dell'ansia Che io ho Ecco Parlerà del rapporto mio Con l'ansia E durerà sette ore un quarto E durerà sì Così Sarà un Un reality Tipo reale Sulla mia vita E lo porterò Al teatro Non lo posso dire Ancora Non si sa Perché non si sa Però A Roma E a Milano Quindi Un brindisi a questo Un brindisi all'ansia A Derealizzato A Derealizzato A questo punto però Parlaci un po' Degli attacchi di panico Della ansia Oddio Ogni volta Che quando ho detto prima L'ho detto prima In separata sete Quando vengo a fare i podcast Le interviste A me è una seduta Da un psicoterapeuta Non è una cosa Da divertisse No Derealizzato Lo spettacolo si chiama Derealizzato Proprio perché Io ho 23 anni E se qualcuno di voi Ce l'ha avuta Vi potete riconoscere Io ho avuto La derealizzazione E depersonalizzazione In che cosa consiste È una sorta di attacco Di panico continuo Dove tu ti svegli Una mattina E dici Mi sento che sto Dentro a un film Vedi la realtà Molto distante da te Lo so che sembra Una cosa che sto pazzo Mi dite Devete chiedere il microfono Stacca dietro le camere In pratica Viene da che cosa Da reprimere Guarda ho visto Recentemente Un vecchio video Di Jim Carrey Che parla della depressione Ma non voglio Usare questi termini qui Però penso Che la depressione Come gli attacchi di panico Gli attacchi di ansia Siano tutte Malattie Tra virgolette Mentali Che uno ha E la derealizzazione Io mi sono rivisto Proprio in questa intervista Perché lui dice La depressione viene Quando Il tuo io Profondo Il tuo io Inconscio Si stanca Di fare il personaggio Che stai portando In questo momento Nella vita Quindi dice Tu non sei fatto così Basta E te faccio una depressione Così capisci Che devi fare un'altra cosa La derealizzazione È questo Cioè Reprimendo le cose Che tu vuoi fare Non per colpa tua Magari Ma neanche per le persone Che ti stanno accanto No principalmente Per colpa tua Scusami Per colpa tua Perché la colpa È sempre nostra E Ti fai condizionare Magari dici Dei no A delle esperienze Che vuoi fare Riprimendo tutto questo A un certo punto Il tuo corpo si stanca E dice Basta Devi vivere Come Devi fare il vero personaggio Che tu sei E a me A 23 anni Dopo un capodanno Mi venne questo Grandissimo attacco Di panico Dove una mattina Mi svegliai Mi sentivo stordito Mi sentivo in un film E dicevo Mi sembra Che sta un film E mi sentivo Totalmente intontito Ed era la derealizzazione Mi guardavo lo specchio Non mi riconoscevo Cioè Era una sensazione Non era proprio Dovevo stare Da qualche altra parte Però era una sensazione Sempre una sensazione È una sorta Di ansia perenne Che ho Diciamo Sconfitto Grazie Facendo quello Che veramente Vuoi fare nella vita Quindi mandando A fanculo Tutte le persone Che magari In quel momento Ti stavano un po' reprimendo Non per colpa loro E facendo quello Che veramente Volevi fare nella vita Perché in quel momento Ancora non stavi inseguendo Quel momento Io volevo fare l'attore Volevo fare l'attore Però ero legato Molto alla strada Classica Dell'attore Quindi la scuola Di recitazione I provini Le cose Ma se non ti chiamano A fare i provini Certo Tu non vedi mai Non mi rimane la soddisfazione Quindi da una parte Dici però devo guadagnare Quindi ti metti a fare Dei lavori Che in quel momento Non ti va di fare Però li fai Perché comunque C'è bisogno dei soldi Non vuoi pesare Sui tuoi genitori Quindi E da lì Insomma tutto Questa rilla Che fatta ieri Questa contenuta No A parte questo E Sì Perché ti era venuto In quel momento Perché tu Non avevi inseguito Quel sogno Perché avevo il sogno Di fare l'attore Però lo reprimevo Lo reprimevo Dicevo Vabbè ma te pare Che metto a fare l'attore Non guadagno soldi Vengo visto male Vengo visto come sfigato Che vuoi fare l'attore Tutto qua Ma non è Non è quello Che ti devi dire Tu devi dire Voglio fare l'attore E trovo il modo Il modo più assoluto Nel poterlo fare Lo so che detto così Sembra facile Dici eh Da domani Mi metto a fare l'attore E faccio di tutto Da dove inizio È proprio quella cosa Io infatti Smisi di fare l'attore E Iniziai a fare Il giornalista sportivo Che era la seconda passione Insomma che avevo E da lì Io mi ricordo proprio Che Misi tutto Me stesso Nel fare Nel fare quello Cioè io Mi svegliavo la mattina alle 8 Andavo a dormire La mattina successiva Alle 5 di mattina E facevo di tutto Per poter diventare Il giornalista sportivo E da là A un anno Diciamo Era andata I verbi purtroppo Da lì a un anno Andai a lavorare In una radio romana Di sport Sportiva insomma Sulla Roma Quindi in un anno Arrivare A un traguardo Che non è che dici Sei a Sky Sport Però un traguardo Che comunque A cui molti ambiscono Io c'era arrivato In un anno Io Fu il primo Che fece I video Diciamo sulla Roma Con le interviste Con la conferenza stampa Andavo a seguire La conferenza stampa Mi mettevo tipo Angelo Mangiante Alla fuori A fare servizi Sulla Roma Che all'epoca Ti parlo di 2016 No forse No prima 2013 2014 Non lo faceva nessuno Quindi era una grande novità E da là infatti poi Ho imparato tantissime cose Ho imparato La grafica Il montaggio video E tutto quanto E poi Conseguentemente Ho provato a rifare l'attore Però sul web Quindi sfruttando La cosa del web Perché all'epoca Vedevo Wilwush Claudio Di Biaggio Cane Secco C'erano all'epoca La prima YouTube Italia Voi c'erano Per quattro anni Però sì La prima YouTube Italia Erano loro E mi ricordo che Ecco Se vi posso dare un consiglio A questo Quando voi vi Vedete tante cose A me succede spesso Vedete tante cose Dite Ah vedi questo Che cosa figa ha fatto Che cosa figa ha fatto Questa cosa State a perdere tempo Vuol dire che c'è C'è Un'inconsapevolezza Di voi stessi Che da una parte Vorrebbe fare Quello che state vedendo Ma non lo fate Per pigrizia Per Inesperienza Per paura Ecco io quello che posso dire È che quando vi trovate In quella situazione Quindi vedete tante cose Dite figo 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 Vuol dire che voi Dovete fare quella cosa E sarà successo anche a voi Magari vedete Che ne so Vi dico dei podcast Magari vi fanno cagà Però insomma Muschio selvaggio Cashmere podcast Cazzo Figo 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 Famo il podcast nostro È questo Purtroppo però Bisogna ascoltarsi A volte per pigrizia Per paura Non lo si fa Però bisogna farlo Perché sennò Poi si Si trasforma in derealizzazione E prendete l'Oxanax A 23 Ma senti Come ti sei preparato A questa esperienza Di giornalismo Che hai fatto Perché dici Io mi preparavo Dalle 8 in mattina No mi preparavo Nel senso Ho iniziato a lavorare Per questo sito E volevo cercare Un qualcosa di mio Quindi il lavoro sul sito Era inserire le notizie Tramite dei turni Che ne so Iniziavano appunto Dalle 8 E finivano alle 6 Però siccome A me piaceva fare Tante cose Ho detto Provo a fare Il giornalista sportivo Quello di televisivo Così potete andare A lavorare in televisivo Mi faccio vedere Mi faccio come il web Mi faccio vedere Per fare questa cosa qua E lavoravo così tanto Perché A parte che dovevo montare video Quindi magari Li montavo di notte E poi Conseguentemente Facendo queste cose Mi entravano Tante altre possibilità Quindi montaggio video Di qualcos'altro La grafica Per quell'altro cliente Arrivavano tante richieste Io mi ricordo I primi video Con gli Actual Li montavo Li giravamo Non ne so Usciva la notizia Soprattutto appunto Chiamandoci Actual Dovevamo fare cose In maniera molto rapida Attuale Quindi giravamo il video Usciva la notizia Giravamo il video E la notte li montavamo E io alle 4 Alle 6 di mattina Mi mettevo a dormire Da poco Avevamo montato Finito il video Mi svegliavo Alle mezzogiorno E pubblicavamo il video Era così Era così Io ripenso A quei tempi Ci ripenso Con Con molta felicità Perché Mi rendo conto Che Era una roba Molto Molto figa Molto figa Adesso a 34 anni Non ce la farei mai Però Però È quello spirito Che uno deve avere sempre Il fatto di De farsi il culo Raga È questo De farsi il culo Purtroppo Ma non lo capisci Fino a che Purtroppo sembra una frase fatta Non lo capisci Fino a che veramente Non tocchi Con mano La Una possibile malattia mentale O veramente un crollo Psicologico Che uno C'è Vabbè È detto questo Sigla finale Invece io mi volevo ricollegare A una cosa che hai detto adesso Il fatto che ti piace fare Tante cose diverse Perché Ho sentito che Diciamo a te piacerebbe Sperimentare anche altre cose Per esempio la conduzione Del programma Sì Sì E io Quando mi dicono Che cosa vuoi fare nella vita Non lo so Perché io mi metterei Farei attore Farei cantante Farei presentatore Diciamo che Ecco Se uno deve dire Se ti devo dire Un personaggio a cui mi ispiro Ispiro Aspiro Aspiro E la sigaretta Ispiro Una sorta di Catlan Fiorello Questi personaggi qua È ovvio che è molto difficile Soprattutto perché Perché A volte il web è un'arma a doppio taglio Quindi Ti vedono per quelle cose Ecco Una cosa che voglio dire Se io Mi rivedo nei video che facevo Roma Nord e Roma Sud Ma non tanto quelli Quanto altri che ho fatto A O O O tanti altri che ho fatto Insomma successivamente O prima Quando cavalcavamo molto La Romanità Io mi sono reso conto Che mi riguardo quei video Dico Cazzo Credo che la gente Non mi chiamano Perché facevo un personaggio Molto sopra le righe E la gente purtroppo Vede quella roba lì Dice Ah bocce E quella roba lì Però Non è così Ti faccio un esempio Io ho lavorato con Enzo Salvi E non è che Enzo Salvi Se lo vedete Fa Ah Kikko come stai Ah Una persona a modo tranquilla Anche molto seria Eh Però Ti si appiccica Quell'etichetta Là Ma ti parlo di tanti altri personaggi No Appunto Magari Ho detto Fiorello Posso dire Ma anche i personaggi magari Che dici sai Carlo Conti Carlo Conti è il conduttore Per le famiglie Quando magari Carlo Conti Da giovane faceva Coppieracione e Panatiello Li sketch Su Su internet Su internet Su Su teatro Su internet Quindi questo Purtroppo Però Mi sembra che Con il lavoro che stai facendo adesso Da solo Da quando ti sei separato Dagli actual Vai molto nella direzione Di levarti Da queste Esatto Perché comunque Anche tutte le poesie Cioè si vede Sto cercando di Sto cercando di Togliermi un po' l'etichetta A volte Le cose che fai Con l'etichetta Funzionano di più Quindi purtroppo Devi continuarlo a fare A volte sto cercando Magari Prendendo anche meno like Di staccarmi un po' Quest'etichetta Poi ovviamente La cosa che ti fa crescere tanto E che ti distanza Da queste cose Sono appunto Il teatro Il film Queste cose qua Questo pure Danilo Che è venuto poco fa Danilo Fiumicino Ci diceva Che gli scrivo nome Devi fare ricetta Ma io non voglio fare ricetta Io faccio quello Io magari sto là Voglio commentare Un qualsiasi video E lo commento È quello Sì purtroppo è quello E infatti La cosa che Soprattutto dopo la pandemia Mi mandava tanto in frustrazione Io penso tanto A quello che pensa La gente di me Cioè io ero arrivato al punto Dopo la pandemia Non lo faccio più Perché mi è stato tutto il caso E anche perché Sta andando meglio Però All'epoca c'era Mi ricordo Dopo Roma Nord Roma Sud Che poi Dopo la pandemia Magari eravamo un po' spariti E tutto quanto Era un po' sparito La gente mi scriveva Magari faccio un video su Roma Ancora con sta Romanità E io gli scrivevo un privato Ma no Ma non cazzarmi Dico ma mi spieghi Perché mi dici questo Che cosa c'è che non va Io voglio piacerti Voglio 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 Ci rimanevo Ma mi dispiacia E ti dicevo Cazzo Ma io non sono una persona Cos'è perché E poi piano piano L'ho capito insomma È pur vero che Il web va molto a Ma come tutte le cose d'arte La musica I film Gli attori Va molto a A come si dice A Oddio A lampi A lampi Insomma A momenti C'è il successo di quello Finisce quello C'è un altro Insomma ecco Recentemente stavo vedendo LOL 4 Che per me non sarà mai Come il primo Certo No Poi a piacere Non piace il LOL Però La naturalezza La naturalezza Del primo LOL Non la ritroverai mai più E quindi Molti magari criticano LOL Per questo Ma non è che criticano Cioè E poi siamo anche in un'epoca Dove le cose che prima Criticavano al bar Adesso le criticano Sotto Sotto la foto tua Quindi è normale Quando sei un creator Pure se c'hai Cento commenti positivi Magari ti fissi più su quello Vedi solo quello Vedi solo quello Però Quella purtroppo L'altro giorno pubblico un video Che era quello del caffè amaro Prendendo il caffè amaro E c'è uno sotto Su TikTok Che mi ha scritto Che poi è Dalaz Ecco Ha scritto Ma fa questo a 40 anni Che poi manco c'erano 34 Portati male Ma a 40 anni Ancora si pensa a De Faride E io sono stato tutto il tempo A vedere Che cazzo è E poi l'ho vista Per una caratteristica intellettuale Però ci rimango male Ma ci rimango male Io come ci può rimanere male Chiunque No Perché Purtroppo siamo In un'epoca In cui Cioè I social sono brutti Ragazzi Non è una cosa Sono selvaggi No A livello mentale Non è una cosa Non è una cosa bella Che uno può dire Io personalmente Non ho mai fatto Un commento brutto Sotto sotto a un posto Mai Mai Ne puoi fare uno costruttivo Una critica Ma poi Poi commentare un politico Perché ovviamente Poi commentare una La guerra Poi commentare Ma che io vado a scrivere sotto La foto De 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 Fedez I figli tuoi Che adesso non si vedono Una cosa orribile Dopo Sei frustrato Ma che cazzo Non è brutto Non esiste Allora devo dire Che noi ormai La stiamo pure prendendo Che più fanno queste cose E più va a virare Ma infatti a volte Mi scrivo da solo Secondo me Ma molti lo fanno Io conosco gente Non dico nomi Che si offende Sotto ai propri video Per creare polemica Giusto Stupendo Geniale Questo Arnaldo Bocci Esatto Odrano è il contrario Odrano è il Occi Icciob Icciob Ma invece Faccio proprio un salto indietro Tu ti sei innamorato Della recitazione Vedendo film C'hai dei registi Che ami Attori che ami Film particolari Ma guarda Vi dico una cosa Molto romantica Io mi sono innamorato Io all'inizio Volevo fare il cantante Ecco E mi sono innamorato Di questo Perché mio padre Lo faceva Ma dai Facceva piano bar Non è che faceva il cantante Facceva piano bar E ho iniziato a fare Puglio piano bar Poi la recitazione Non lo so Sai Ci sono cose qui Che ci nasci Guarda Lo psicoterapeuta Ma Vado smettere No Mi ha detto questa cosa Tu vuoi fare i video E vuoi far ridere la gente Anche se non mi Ecco Diciamolo una volta per tutte Io non mi ritengo Un comico Io non sono un comico Io sono un ragazzo Lo dico anche Nello spettacolo Che vuole fare qualcosa Che vi fa passare Un momento di Di distrazione Ma io Anzi io vorrei fare L'attore drammatico Che film Io voglio fare i trammi Però purtroppo Non ti fanno fare Perché Romano Ardoloma Sud Però quello Io non sono un comico Quindi quando mi dite Non fai ride Io non voglio fare ride Non voglio Comunque Lo sai mi diceva La mia insegnante Ricitazione Lo sapete tutti Perché fate Questo mestiere Perché volete Riconoscimento Probabilmente Sì Probabilmente Sì A me Mi ha detto Lo psicoterapeuta Recentemente Mi ha detto Tu fai questo Perché vuoi far ridere I tuoi genitori Io mi ci rivedo tantissimo Per esempio Io pure Mi ho iniziato a fare Videocomici Perché tu vuoi far ridere Nella tua infanzia Tu vuoi far Vuoi soddisfare I tuoi genitori Tanto sei sempre là Il problema Quando sei piccolo Io sono nato Settimino Tante cose Quindi magari L'ansia Quindi vuoi Con piacere I tuoi genitori Per la vita Che ti hanno Basta Con queste cose Stacchiamo E io ti volevo Chiedere in realtà Un'altra cosa Sulla recitazione Adesso che fai teatro Che comunque Magari devi preparare Spettacoli lunghi Anche Anche con tante Repliche Come ti prepari Se hai un metodo Che metodo usi Allora guarda Cioè sei studiato Magari anche Chabak Stanislavski Sì Allora sicuramente Sì Sicuramente Ti dico Quando ho iniziato A fare recitazione Per questo ero frustrato E lo dico a tutti gli attori No poi È giusto Giusto sbagliato che sia Appena inizi a fare recitazione Ti inculcano quella cosa Appunto come dici I metodi Strasberg Stanislavski Devi leggere Il gabbiano di Chekhov Perché Mi compro Pirandello Cosa che non ho mai letto Perché un ragazzo di vent'anni Non gli va Da legge Poi per carità È giusto che te la leggi Però per dirti Io mi leggevo queste cose Ma dicevo Ok ma qual è la Come si fa Cioè un conto è leggerlo Magari anche con un insegnante Che tu dici Ma qual è la cosa Come si fa Poi a un certo punto Io ho avuto la fortuna Di incontrare Magari l'insegnante giusto Al momento giusto Che era Massimiliano Farau E E mi ha aperto Un mondo Sulla recitazione Che è al di là di Stanislavski Strasberg Cioè no al di là Lo comprende Ma se tu lo studi Sui libri Non Cioè Il fatto è questo Ci sono delle cose Nella vita Che tu impari In una maniera In cui ti piace Non so se Mi sto spiegando bene Nel senso Una cosa che magari è difficile Se te la spiega In una determinata maniera La simili E la fai tua Quindi in quel momento Massimiliano Farau È stata La persona Insieme anche a Sonia Barbadoro Non qua si offendono tutti Che è stata la mia insegnante Di recitazione Per la preparazione Ai provini dell'accademia Quando volevo entrare in accademia E Mi hanno A un certo punto Tu Provi una cosa Ti dice Fate una corsa Fate una cosa Sfogate un attimo Non ci pensare Sfogate Fai una corsa Fai una camminata per le scale Torna qua E falla di botto Boom Loro avevano questo metodo qua Che adesso non so che metodo sia Però era molto Un metodo molto fisico Quindi non pensare molto con la mente Non stare lì Flessione Esatto Ripeti le battute Tu mi dici un metodo Una cosa Ripeti le battute Stai in macchina Mentre lavi i piatti Mentre stai al bagno Mentre te fai la doccia E E una cosa anche Dicevano Ripetila a bassa voce O ripetila nella lingua Nel dialetto tuo Queste cose mi aiutano tanto Poi mi fanno fare sempre romano Quindi non c'è bisogno Di queste tecniche Però Ecco se devo dire Come mi approccio A un testo È questa cosa qua Quindi farlo nella maniera Più naturale possibile E E poi ti viene naturale Poi è ovvio che Uno dice Fai video sul web Fai cazzate Ma ti aiutano un sacco Queste cose qua Perché comunque ti danno confidenza Con Esatto 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 Comunque capisci tante cose No io pure Ripetendomi il video Dico Vedi qua ho fatto una cazzata Qua un po' devo fare meglio E capisci subito Come magari Come poterla fare La cosa che mi inguaglia molto Infatti Tutte volte che faccio un spettacolo Mi dicono Mi massacrano per questo È che So lento a fare la memoria Nel senso che non me va Nel senso che devo stare là Cioè sono uno che fa memoria Quando sta sul campo Se devo stare a casa E mettere un corcopione A studiare la memoria In due ore Faccio quattro pagine Quindi Non si può fare Però io Che non sono attore Mi è sempre sembrata La cosa più difficile No non è difficile Tutti dicono è difficile No non è difficile Che la devi fare La devi fare La devi fare Perché la devi fare poi In un momento giusto Perché poi magari Sì sì La impari a pappagallo E poi ti rimane Quella cantilena Che non è giusta Esatto Tu la devi fare provando Io sono dell'idea Che bisogna farla provando La notte che mi chiudo a casa Cioè la posso fare a casa Quando l'ho già provata parecchio E quindi quello Quindi arrivo sempre Poco prima Dello spettacolo Che ancora devo fare a memoria Sono ancora corcopione E quindi Poi alla fine Uno ci riesce Invece Io vorrei Che abbia un attimo Totalmente argomento Parlamo da Roma Parlamo da Roma Per esempio Banalmente De Rossi Murigno Come l'hai vissuta? Allora ragazzi Io adesso Mi state facendo bregare Quindi sto dicendo cose Che non dovrei dire Però siamo sinceri In questi cazzi Tanto Tanto non diventerò mai Fiorello Quindi non sarà mai Leonardo Boccio Ha detto questa cosa All'epoca Questo podcast Cacciamolo Da Sanremo Basta Da Sanremo 2040 Tutte queste interviste Che mi invitano Sono deleterie Perché se io veramente Voglio diventare famosa Non ti chiamano più Ci stanno dei provi Hai capito? Dici qualcosa Che non devi dire Ma invece Se a Remo 2040 Staremmo tutti Tipo Gli occhiali strani Ma io sono Spera Cesarone Solo parolacce No però De Rossi Murigno Io vi dico Mi ero un po' Stancato Di Murigno Io pure Un botto Mi ero un po' Stancato Lo so che Nel senso Mi rendo conto Di tutto quello Che ci ha fatto raggiungere Ma mi rendo conto Pure che era un allenatore Cioè La cosa che dico sempre È questa Murigno lo amo E lo amiamo tutti Nonostante sia un paraculo E questo lo sappiamo Però È stato un allenatore Che ci ha fatto vincere Una cosa che non abbiamo mai vinto E quindi Non gli si può voler male E Murigno Sempre Dovesse tornare Tornasse subito Però Se tu prendi un allenatore Che tutti i giorni Ai propri giocatori Dice Guardate Se adesso devo fare Un'intervista a Murigno Non la posso fare Lo so Ai propri giocatori Dice No vabbè Questo Murigno Te lo dico così Come se fosse un amico Tra cinque anni Saremo grandi amici Quindi te lo dirò Anche dal vivo Però Se tu dici Ai tuoi giocatori Siete tutti Delle pippe Se non c'è stato Di Balea Luca Con sta squadra faride A un certo punto Li perdi Li perdi Ma è naturale Se io fossi Con un regista Che mi diceva Sto spettacolo Sono tutti bravi Ma tu fai schifo Dico Spettacolo Non mi fa più De farlo Basta Ti faccio questo E poi al prossimo Non vengo più Ti demoralizzi Per me è successo Un po' questo È successo un po' Cioè La gravità Del rapporto Tra Murigno E la Roma Al di là dei risultati E tutto È stato proprio questo Il non dare entusiasmo Non tanto ai tifosi Perché a noi Ci dava tantissimo entusiasmo Ma alla squadra Certo Alla squadra Non dava per niente entusiasmo A volte A volte Poi certo Se vinci Certo che dà entusiasmo E De Rossi Un po' mi ricorda E sono molto contento Di De Rossi Perché mi ricorda Il primo Spalletti E dei Spalletti Sono Vabbè Poi te Ce l'hai vissuto Io magari Il primissimo Spalletti Per me Io Spalletti Se penso alla prima Roma De Spalletti Mi viene da piani Perché sono gli anni Più belli della vita mia E partite a casa Con nonno Mi padre Che è Le 11 vittorie De Fila Tantissime soddisfazioni Ma proprio È una parte Della mia vita Felice Totti Per me Totti È mio frate Io lo vedo Come un familiare Ma che scherzi Tutti È un familiare Abbiamo intervistato Mantino Manzini E lui ha detto Lui è stato allenato Da Murigno Spalletti Capello Come Spalletti Spalletti Secondo me ragazzi È l'allenatore Più forte D'Italia Ed è sempre stato Un po' sottovalutato Magari pure Per il carattere Che c'ha Perché comunque La vicenda Totti Spalletti Non ce la dimentichiamo E Però è forte Ma lo dice anche Totti Nonostante lui C'ha avuto tutto quello Che dice Spalletti Noi vediamo Che c'è un mila Con l'Italia È l'Italia Che non c'ha Non c'ha la squadra Certo ha vinto Mancini Non diciamo Tagliamo questa Non c'ha la squadra In questo momento Viviamo in un'epoca In Italia A cui giovani Non viene dato molto spazio E quindi è normale Che stiamo con questa squadra Sono tutti forti No però Viviamo un'epoca In cui Diciamo Il calcio italiano Ma in generale Non c'ha più Lo stesso appeal Di prima E quindi è normale Che ci troviamo Magari con Con delle operazioni fatte In maniera sbagliata Quando magari Se mettiamo In campo Giocatori italiani Non passo per azzista No Italia No Tagliamo No però No Anche perché Voglio dire anche questo Io Non Basta 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 Sono propenso a tutto Nel senso Non Fa un antifascista Diciamo Naturalizziamo tutti Sono antifascista No perché a volte Facendo questo personaggio Sui social Te dicono pure Che sei Ma è capitato A volte Ma è capitato Ognuno Io poi Sono anarchico Nel senso Non me ne frega un cazzo Nell'uno e dell'altro Non me ne frega proprio niente Bravissimo Con questo per dire Guardate Stiamo passati Dalla Roma A Mussolini Che ci ha fatto Pince anche Uno scudetto Mussolini Quindi Sempre No 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 Però Se dovete Prendere questa Prendetela con il pre Antifascista E poi potete mettere Questa battuta No così Giusto Mettere in atto Poi in difficoltà Come vedi Roma-Milan Europa League Secondo te Come Che sensazioni C'hai Allora Non dico niente Perché non si può Dicare Perché poi porta sfighe No No perché Perché sono superstizioso Ma proprio perché poi Se esce dopo Se esce dopo L'eliminazione Se esce dopo L'eliminazione Sai i commenti A berda Vabbè Vai passiamola No però Sono molto contento Sono molto positivo Sono positivo Sicuramente Perché Deleu si sta facendo Vedere un bel gioco Ha ritato Ha ritato l'infa La squadra E tutto quanto Quindi sono molto positivo Ti dico anche Che con Mourinho Sarei stato sicuro Sarei stato sicuro Di Nel vino Di andare in finale Io sono convinto Che se ci fosse stato Ancora Mourinho L'uomo delle coppe Quindi Siamo andati in finale 100% Con De Rossi Magari ci andassimo In finale Sarebbe un sogno De Rossi in finale Europa League Magari Perché come hai detto De Totti Pure De Rossi Lo vivi Proprio come un fratello Ma che scherzi Ma Totti De Rossi Ma Ci ho avuto la fortuna Di conoscerli Per me è stato Cioè se tu mi dici Qual è la persona Che tu Vuoi conoscere Nella tua vita Non c'è Gigi Broghietti Alberto Sordi Carlo Francesco Ma certo Francesco Ci ho avuto la fortuna Di conoscerlo E Come l'hai incontrato? L'ho incontrato Perché Mi allenavo In una palestra Che si chiama X-Cross Anzi saluto Fortemente Fabrizio Giacorossi Che purtroppo C'ha avuto un incidente In questi giorni E sta combattendo Quindi ecco Ne colgo l'occasione Per Per dargli un grande abbraccio E Un brutto incidente Quindi insomma Uso questa 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 piccola Occasione Per fargli Un grande Dargli un grande abbraccio E grazie a lui Che era il suo Personal trainer All'epoca era il suo Personal trainer De Totti E Ho conosciuto Totti Poi avevamo invitato Al compleanno suo Fabrizio E c'era anche Totti E Totti Mi ricordo Che il giorno Prima di questo Compleanno Mi aveva aggiunto Su Instagram Ma dai Aggiunge Totti Su Instagram L'ha proprio Per quadretto E mi ha detto Basta Posso pure finire Esco da Instagram Ed è lì Che ha iniziato Il picco Dall'esammato No 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 E da là Ho detto L'ho incontrato Poi al compleanno Di Fabrizio Rida scherzando A parte che c'avevo sempre Un imbarazzo E beh Come una divinità Dai Io ti giuro Sono davanti a Francesco Totti Io sto Non so che Sì Sì Così E poi ho avuto la fortuna Di una cena Una volta mi chiama Fabrizio E mi fa stasera Andiamo a cena Da Totti Ecco qua Da Totti e Ilari A posto Io ho il video Che gioca a ping pong A casa di Francesco Totti Mamma mia E per me l'ha stato Il culmine Di tutto quanto E poi vabbè Basta Ecco Diciamo che Di base Io Ho raggiunto Quello che volevo raggiungere Non conosce Francesco Però Così Così Il giorno del tuo matrimonio Tu dovrei dire Guarda È il secondo giorno Che mi sono già sposato Esatto Non sono già sposato Comunque Se posso dire una cosa Ricollegandomi a prima Una cosa Che secondo me Mourinho Ha fatto molto Cioè Che ha portato È proprio la squadra Che adesso De Rossi sta sfruttando Quello che mi chiedo È se poi Il prossimo anno Li daranno Anche a lui I giocatori Che Allora Io penso questo Io penso che Mourinho Anche per quello Non era secondo me L'allenatore Troppo giusto per la Roma È che Mourinho C'ha bisogno Dei campioni È certo Se non li compri I campioni È inutile che prendi Mourinho Tant'è che noi Eravamo rimasti Però la rosa C'è secondo me Pure quando C'è stato un momento Dove magari Alcuni romanisti Dicevano Adesso Mourinho Non c'ha la rosa No ma la rosa Non è scarsa La rosa Non è scarsa È per quello che io Tra virgolette Era un po' Stanco di Mourinho Perché la rosa La Roma c'è là Lo vedi adesso La Roma c'è là la rosa Poi È ovvio che Magari Come tutte le squadre C'è bisogno di qualche rinforzo Da qualche parte Ma la rosa La Roma C'è il quarto posto La Roma Lo fa occhi chiusi Bologna C'è Bologna Quarto posto Ma lo stesso Ti dico Anche lo stesso Milan C'ha magari Quei due tre Sì ma non è che Non c'è Non è l'Inter L'Inter Ma la stessa Juve Pure c'è i giocatori Nonostante magari Stanno da un po' peggio Certo Ma il Milan E quindi Ti dico Sicuramente se prendi dei rossi Prendi un allenatore Alla spalletti Quindi Come con Napoli Gli dai quello che c'hai Magari Sicuramente Gli hanno fatto qualche promessa Ma attualmente Certo non è una squadra Che Può ambire A campioni Nonostante li abbia presi Perché comunque C'è Di Bala Di Bala Lukaku No no è quello che dico Che comunque Di Bala Lukaku Era l'attacco più forte Del campionato d'Italia No no perché sono romanista No 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 Di Bala Lukaku ragazzi Ma infatti Pure su quello Per esempio Tiago Pinto è stato criticatissimo No? Invece con una scarpa E una ciabatta È riuscito a prendere I giocatori Ma c'era purtroppo C'era purtroppo Una patina Dei tifosi Che non vedeva La realtà Forse non accettava La realtà Perché era legata Molta a Molino Perché ci ha fatto vince Ma di base La squadra C'era già da prima Poi sicuramente Può essere corretta Però Svilarra e Allison Ragazzi Madonna è impazzito Prende tutto E non pensavo Lo fosse Magari il prossimo anno È una pippa Però 60 milioni Eh lo capisco Sicuro Sicuro Però è così C'era Eravamo un po' Tutti lobotomizzati Dalla vittoria Della Conference League E quindi Ci ci ha fatto E soprattutto Dalla finale Europa League È una cosa Rubata Ma così Perché ci hanno rubato Mamma mia Però Era un po' Tutti lobotomizzati Da quello Però Al fine Daniele De Rossi Fortunatamente è stato L'uomo giusto Al momento giusto E questo Si collega A tutti i momenti giusti I posti giusti Al momento giusto Le occasioni giuste Al momento giusto Della mia vita In generale E anche della vostra Quindi Cogliete 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 L'attimo È il momento giusto Il posto giusto L'occasione giusta È il momento giusto Grandissimo E io Cambio Di nuovo Dottor Bette Argomento La carbonara Perché No Ci hai promesso Come Hai iniziato a fumare A 28 anni Ah È vero Ragazzi Allora Questo Parte sempre Dalle attacche di panico Che ho avuto A 23 anni Nel senso che io Fino a 23 anni Insomma Fino a 25 anni Ero un ragazzo Casecchiesa Ero fidanzato Io Fedelissimo Eh Non volevo andare A convivere Lavoro Dovevo lavorare Lavoro serio E tutto quanto Ma il mio Io inconscio Non voleva Quindi che faccio Mi lascio Perché ero fidanzato Ho detto Mi lascio E inizio a fare Tutto quello Che non avevo fatto In precedenza Quindi ho vissuto Da 25 Ai 28 Papà e mamma Che è stata D'ascolto La Proprio Erpanico Erpanico Esatto Erpanico Uscivo Facevo E Tant'è che Ho iniziato Poi Frequentando Molto i locali A fumare Ogni tanto Qualche sigaretta E all'inizio Come tutti Non ci piace Fumare Come il vino All'inizio Te fa schifo Non ti piace Nessuno beve O fuma Per il sapore Zepp Io fumo Fumo per noia Fumo perché Non c'ho da fare Dopodiché Prima della pandemia Succede un fatto Che mi Insomma Mi scuote Mi scuote molto E Da lì Inizio a fumare Un pochetto di più Tant'è che in pandemia In un momento Io ho nostalgia Della pandemia Ho nostalgia Perché sono stati I periodi più belli Della mia vita Nonostante ovviamente Tutto il dramma Che c'è stato Per carità Però personalmente Ritrovare un po' Me stesso a casa Da solo Certo Mi ha fatto tantissimo Un sacco bene E ho ritrovato E ho scoperto Questa passione Nella tranquillità Di fumarmi Una sigaretta Quindi non ho iniziato A comprare i primi pacchetti Di sigaretta Mai fumato Quindi mi ricordo Il primo pacchetti Mi sto a comprare le sigarette Mi sono 30 anni 28 anni Mi sto a comprare Io li stavo Io ho fatto come te I denti Per quello Sono curioso 28 anni pure te Sì sì No 28 anni Adesso Però È stato È stato È stato Una fase Della mia vita In cui Mi ricordo Io ho iniziato a fumare Mi ricordo Le prime sigarette Perché Perché facevo Uno spettacolo Sempre C'era Federico Maria Isaia Che è un attore Un grande amico mio Attore Che fumava Allora mentre provavamo Ho detto Senti Dammi una sigaretta E se fumavamo Sta sigaretta Dammi una sigaretta Dammi una sigaretta Dammi una sigaretta Alla fine È iniziato il vizio Pandemia Mi sono iniziato a comprare sigarette E da l'ho poi esagerato Perché ho iniziato a fumare Troppe sigarette Perché ovviamente Uscivo sempre Facevo e tutto quanto E Tant'è che adesso Quando fumo una sigaretta Mi pia l'ansia E quindi Ti senti in colpa No no Forse Forse è il mio inconscio Vabbè Io so l'epocondriaco Ecco Questa era l'altra domanda Io so l'epocondriaco Arrivamoci subito Quindi Quando sento Quando mi fumo una sigaretta Penso che Non so Forse sono le sostanze tossiche Che ce l'hanno Ma mi viene tutto Un pensiero strano Un trip mentale Ma come se stessi a fare una canna O una botta di cocaina Bip Però mi viene Mi viene Mi viene questa cosa qua E quindi sto cercando di smettere Però a me lo psicoterapeuta Per quello non lo smetto Perché lo psicoterapeuta dice sempre Non so le sigarette Il problema E allora sei stronzo Cazzo Non mi devi dire così No continua E infatti Io Per risolvere i problemi Della mia ansia Basta Dovrei smettere di fumare Ma non lo faccio Perché lo psicoterapeuta Mi dice Non so il problema Quindi cerco Qualsiasi altro problema Per No però Ma al di là di tutto È anche È un po' passato De moda Certo Quindi a volte Mi ritrovo Ad esempio In Arancione Lo spettacolo Che sto preparando Poco tempo fa A teatro Ho fatto poco tempo A teatro Nessuno fumava E tu E tu E tu Ti senti Un deficiente Che dici Ragazzi Tu usci un attimo Un deficiente Un coglione Però ti posso dire Pensa i ragazzi Che adesso iniziano Con l'Aikos No Allora io ve lo dico Ragazzi Cioè comunque uno dice No la sigaretta Pure è un po' figa No poi non sei figo Perché manco la sei fumare Appena inizia Pubblicità Procresso Pausa Pubblicità Procresso Se vi dovete Stavrò contro anche Le industrie Dele Aikos No no Non dico tanto Aikos Aikos Si può pure fare Al carità Se dovete fumare Fumate quello che vi pare Però Però non vi comprate Quella cazzo Di pipetta Al melone Al fogomero Useggetta Quella roba È una roba Ragazzi Una roba Che non si può Vedere Però pure inizia Non inizia Con l'Aikos Inizia quasi Io ho sempre Se devo fumare Mi fuma la sigaretta Ma ho provato Poi c'è passi Magari Non posso dire questa cosa Perché c'è uno sponsor De sigarette elettroniche Veramente Che è la Pulse Quindi diciamo Pulse Comprate tutti Una sigaretta elettronica E poi vedete Se tagghiamolo Poi vedete No no Io sto sponsorizzando Allora lo dico In maniera tranquilla Sto sponsorizzando Fumare è sbagliato È ovvio che è sbagliato Però sto sponsorizzando Questa sigaretta elettronica Pulse Che sicuramente È più leggera Della sigaretta Però io personalmente Mi dico A volte Se devo fumare qualcosa Mi fumo Oddio Questo non posso dire No vabbè Te la mandiamo Provate la palsa Al melone No Provate tutto Tutto Una roba che non si può Vedere Ma invece scusa Per la cosa dell'ipocondria C'è qualche aneddoto folle Tipo Una volta Ti è presa una botta Ti è matto Ragazzi L'altro ieri Mi è preso L'altro Io ti dico Questo Allora Guarda Questa intervista Può durare tre ore Con l'ipocondria Proprio Fiamo una puntata a parte Poi abbiamo L'Enilab Centroanalisi Di Brian Perché ti ho detto Noi c'è un studio medico Quando vuoi Vieni No Vieni con una bella Pulse L'Enilab Centroanalisi Enilab L'Enilab Do sta Sta a mezzo cammino So 10 minuti Da casa tua 10 minuti Forse ci hai fatto Il tampone Ci ho fatto No sai che Tampone L'Enilab Ma che sta A mezzo Mezzo cammino C'hai la convenzione Quicks cross De la palestra Può essere È vero C'abbiamo tante palestre Sì Perché l'ho fatto Ma sta tramite quello C'è cardiologia tutto Visi d'America sportiva Lastre e polmoni Lastre no C'abbiamo Gastro Si è andato dall'innominabile Allora Gastro Come si dice Gastroenterologo Gastroenterologo Si ma la gastroscopia Mi voglio fare No Quella no Analisi del sangue Sì Ok Analisi del sangue Non c'ha affano State bravi Sì sì Però Questo che stai con io Ti faccio mettere i risultati sbagliati Mamma mia Mi chiamano Santa Lucia Mi fa Faccio Stare il sangue Mi chiamano Signor Bocci Guardi Le mandiamo nell'analisi prima Perché c'è un valore sballato C'è un po' di emoglobina Un po' più alta Ma perché fumo Quindi è normale che magari C'è un po' di emoglobina C'è un sangue un po' più denso Mi potrebbe prendere Una trombosi da un momento all'altro Però c'è il sangue un po' più denso Vabbè Basta Comunque era L'ipocondria Aneddoti sull'ipocondria Mi è venuto tre giorni fa Perché? Perché io Quando giravo un film Si chiama Dindon Con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli Andai con la Smart Da Roma Da Roma fino in Trentino Ok Con la Smart 8 ore di macchina con la Smart Da solo Tutto a posto All'andata A ritorno Io con l'epoca fumavo abbastanza Torno Faccio il viaggio e ritorno Parto alle 5 pomeriggio Quindi 7-8 ore Arrivavo insomma a mezzanotte L'11 di sera E mi iniziò a fumare tante sigarette Infatti è questa la sigaretta Secondo me Che mi fa venire l'ansia Perché io ho iniziato a fumare Tante sigarette E stavo tranquillo A un certo punto Mi prendo una botta Di adrenalina Di cuore Che mi batte a mille E vi dico anche Che io vado sempre Col picco appresso Il picco è il coso Per misurare la pressione E la pompita La pompita Però quella elettrica Ok Prende il pulsante Mi sto sentendo male Mi sto sentendo male All'epoca non c'avevo L'Apple Watch L'Apple Watch La cosa più bella Per noi può contriere C'è l'Apple Watch Perché c'è i battiti C'ha tutto Ma io adesso ti dico Quanti battiti ci ho Io adesso c'ho più No guarda 8 minuti fa 91 battiti Sono tanti Stiamo parlando Stiamo fumando Stiamo bevendo E in pratica Mi prendo questo Grande attacco di panico E dico Ma che cazzo faccio Sto da solo Nella smart Ma c'è manco Una macchina comoda Mi fermo Un'autogrill Mi prendo una camomilla E un po' mi calmo Ricomincio Mi riprende Sto da co C'avevo i battiti Che mi misuravo Con la cosa C'avevo la pressione Tipo 145-100 I battiti Arti 110-120 Dico Allora Ma moro qua Mi ricordo solo Che a un certo punto Mi sono fermato Sto dicendo queste cose Ma non dovrei dirle Mi fermo in autostrada In una Di quelle cunette Insomma Che Te puoi fermare E E mi metto a fare Vabbè Diciamo Mi scappava qualcosa L'ho fatto all'appestrada Perché Per l'ansia Mi scappava Ma che cazzo sto dicendo Va bene Arrivato comunque Tipo a Fiano Romano Così Mi ricordo Una cittadina Poco prima di Roma Ma mancavano tipo 120 km Così Dico Io non riesco più Andando avanti Basta Adesso mi fermo qua E basta Mi sono fermato Tipo una ventina di minuti Tipo ho detto Vabbè Voglio andare a casa Perché voglio andare a casa E piano piano sono andato a casa Questo per dirvi che La zona sicura Dove tutto passa Esatto Sì là passa tutto Questo per dirvi che Questa cosa della macchina Io ancora non l'ho risolta Attualmente Perché a volte Soprattutto nei momenti di stress Soprattutto quando mi fumo Le sigarette Mi è pieno E sta Stangoscia E mi ha preso anche Tra i giorni fa Che tornavo a casa Da casa Dopo un'uscita Con un amico mio Che non vedo da tempo E mi ha ripreso questa roba E ho fatto quattro chiamate Questo però perché ve lo dico Io ve lo dico perché Oltre magari a prendermi Per il culo su Terilla Magari però Tanta gente Ci si riconosce E quindi dice Non siete da soli ragazzi Non siete da soli Bravissimo Tornando da questa serata E io ti dico Ragazzo che Dai 25 ai 28 Come ho detto Ho fatto il panico E ho fatto te tutto Quindi bevevo 8 cintonic a sera E fumava le sigarette Non mi era mai preso niente Certo Ma Perché Perché stavi bene con te stesso Magari adesso che Con il lavoro e tutto quanto Sono un po' stressato Qualche pensiero Qualche preoccupazione Te prendono ste cose Certo E Mi ricordo l'altra sera Insomma così E mi è ripresa Sta botto così Tanto è che Criamo la mia attuale compagna E Quattro volte Era tipo mezzanotte E non rispondeva Ci diciamo sempre Se ti succede qualcosa Mi chiamo Portarsi tu A Tant'è che Poi mi ha risposto Io Stavo E poi Sono tornato a casa E sono crollato Però questo per dirvi Che anche con i follower L'ipocondria non passa L'ipocondria non passa Però ecco L'ipocondria Dico sempre Che ti viene Quando non fai Quello che vuoi fare Nella vita È una sorta di depressione Una sorta di attacco Cioè L'ipocondria è un attacco Di panico Di base È un'ansia E quindi A me l'ipocondria Mi è sempre venuta Quando Come diceva Jim Carrey La persona che hai In te Che non conosci O comunque non conosci Ancora bene Tante cose profonde Non conosci ancora bene Ti dice Che sei stancato Di fare questa vita E ci sta Grande Ci sta Ci sta Lei Mi è piaciuta un sacco Questa intervista Tra l'altro Molto profonda Molto profonda Tra l'altro Noi ci chiamiamo così Appunto Perché vogliamo dare consigli Alle persone Vogliamo aiutare Ne hai dati veramente tanti Ti faccio questa Ultima domanda Che facciamo sempre di rito E anche se In realtà Già hai risposto A molte Cosa consiglieresti A chi vuole fare Il tuo mestiere O tutti i tuoi mestieri L'imprenditore no No nel senso Allora Io consiglio questo Fate quello che volete Nella vita Qualsiasi cosa Senza però Preoccuparvi Di quello che pensano Gli altri E senza Sobbarcarvi Dei problemi Degli altri Quindi per un imprenditore Non iniziate Subito a 2000 Iniziate col vostro Fate quello che dovete fare Passo dopo Se dovete iniziare a 2000 Fatelo per voi stessi Ma non per gli altri Quindi pensate sempre A voi stessi E per chi vuole fare Magari il content creator O l'influencer Lo potete fare Perché lo fa chiunque Ormai Quindi Non abbiate paura Fate quello che volete La cosa è questa Fate quello che volete Senza avere paura So che è difficile Perché a volte Non si sa da dove iniziare Ma sempre recentemente Ho visto un video Qualcosa su Mi ricordo dove Che diceva Il momento giusto Per piantare un albero Erano 20 anni fa L'altro momento giusto È oggi Certo E con questa Iudiamo il pod Bellissima Dava ora Possiamo dire L'ultimo reel Preciso Se volete poi Vederlo in puntata Dovete arrivare Fino a qua Esatto Esatto Leo grazie mille Grazie a voi ragazzi Grazie mille a voi Siete bravissimi Salutiamo i nostri amici Ciao 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 Ciao